buon lunedì sera a tutti voi amici di super j aria più fresca sospinta dal ciclone presente nel nord europa si spinge fin verso le coste occidentali africane favorendo una risalita di aria calda direttamente dal deserto del sahara verso il mediterraneo e buona parte dell'europa centro orientale pertanto già oggi ancora di più nei prossimi giorni le temperature che verranno registrate in numerose località italiane potranno toccare e superare in alcuni casi anche di parecchi 40 gradi in abruzzo nello specifico per domani tempo soleggiato in tutta la regione la ventilazione continuerà ad essere debole a regime di brezza ed il mare calmo in tutti i settori le temperature minime di questa notte saranno comprese tra 20 e 26 gradi ma con tassi di umidità molto elevati soprattutto nelle zone costiere le massime di domani stazionaria e con valori compresi tra 34 e 38 gradi vi auguro una buona serata all'appuntamento con il meteo e per domani mattina